E' il mio grande piacere introdurre Dardast uno dei più importanti autori italiani musicali Sì, artista di per sé Buonasera a tutti Da qual è che si dice, quanti anni hai che a un certo punto tutte le volte che viene fuori un hit diciamo esagerato Poi alla fine viene fuori il tuo? Lo so, questo non lo so, dal 2015 forse Eh, sta parlando proprio di pop nel caso di questa domanda di pop per altri Come si potrebbe dire, come altro lo possiamo definire il genere Sì, dai Future pop forse Mi piacerebbe ragionare così come sempre Voi parlate di, usate il termine disruptive Noi usiamo game changer, qualcosa che cambia il gioco, cambia le carte in tavola Quello che è successo per esempio con Mahmood, con Soldi E' stato un game changer nella forma canzone italiana Anche nel mondo delle produzioni perché ha portato sul palco di Sanremo Che magari era un ambiente molto più legato alla tradizione Non solo sul lato della scrittura Ma sul lato della, proprio dell'impianto produttivo del pezzo Era un manifesto di quello che accadeva nei sotterrani Che non era ancora visibile, non era mainstream, come si dice Quindi c'erano delle metriche, parlo di metrica nella forma dei versi Che venivano dall'urban, molto più serrate Mahmood dentro aveva anche un certo Rispettava comunque la forma canzone, il cantatore ad italiano Ha il suo esotismo per le sue origini Quindi era un po' un manifesto del multiculturalismo, dell'integrazione Lui è seconda generazione o è nato in Egitto? No, è seconda, lui è nato in Sardegna Quindi c'era anche quell'elemento che non era da poco E quindi è stato prorompente questo brano, no? Inaspettato E quindi da lì in poi ho capito, per quello che riguardava il mio percorso Che la tradizione andava, le regole non andavano rispettate fondamentalmente Che non è nulla di nuovo, però andavano rotte Come ho fatto poi con la notte della Taranta lo scorso anno, no? In cui mi sono trovato ad affrontare un repertorio storico E lì è una religione la Taranta E il mio compito era il venticinquesimo E quindi io dovevo entrare nella tradizione E lì c'è un fanatismo, che è come quello calcistico Spieghiamo un po' cos'è, la notte della Taranta è una sorta di superproduzione Che avviene nella zona del Salento Che è nata qualche anno fa, naturalmente sulla base del famoso ballo della Taranta Che nasce da tradizioni diciamo religiose, ma anche pagane E che si è trasformato nel corso del tempo in una sorta di Ci sono esempi inglesi, cose di questo genere Cioè di superproduzione musicale che viene affidata ogni anno ad un artista A te ti sei beccato la venticinquesima La venticinquesima, l'ho fatto proprio per quello perché la sfida era grande Lì ci sono duecentomila persone È diciamo una megaproduzione Si lavora mesi e mesi per un evento di una sola notte E quindi è stato incredibile ricodificare e rompere le regole lì Però rispettando anche in parte la tradizione Questo per dire che la mia visione da quel momento in poi È stata sempre di rompere le regole Di andare oltre i perimetri, gli steccati, le categorie E di avere coraggio anche in questo E certo E poi arriviamo anche a te Ma un'altra cosa ti volevo dire Com'è che nasi, diciamo, individui il sentire che cambia? Perché tu ovviamente lavori anche essenzialmente su sentimenti, inutile dirlo E tanto per specifici artisti Non a caso ci sono degli adattamenti al periodo A seconda di una balla o di un pezzo dance Che sono molto misurati In base anche al clima Per esempio, non voglio esagerare Ma diciamo al clima generale Non voglio dire al clima sociale Cosa faccio io è che me ne frego tutti questi discorsi Sì, perché poi quando sei in studio vado distinto L'unica cosa che faccio ovviamente è Essere sempre aggiornato Innamorarmi Ascoltare tutta la musica Fare viaggi E prendere più colori possibili E di usare bene il pensiero laterale Quindi di associare schemi, pattern, colori Che arrivano da mondi diversi E quello quando ti parla di intelligenza artificiale Che non sostituirà mai per quello che mi riguarda L'intelligenza emotiva Però può essere un ottimo strumento Per creare associazioni inaspettate Tra progressioni di accordi Tra colori d'arrangiamento Tra stili musicali La stai usando? Eh? La stai usando? No, non la sto usando L'ho fatto degli esperimenti Ma siamo ancora nell'ambito della parodia Quando vengono fuori delle cose Ebbè Ma secondo me verrà ottimizzato questo processo Quindi sarà veramente di ausilio Un grande cambiamento è stato la piattaforma Splice Le piattaforme dei campioni Campioni parlo di sampler Cioè di sampling Parliamo di campionamento Quindi noi abbiamo delle piattaforme Gustin Cic Scusami se ti copro le palle Mentre sei a telefono Interessante questa storia Della piattaforma dei campioni Perché assomiglio ovviamente A celle Celle musicale Non volevo semplicemente Niente Volevo sincronizzarti No, dicevo che Una volta Noi abbiamo avuto a disposizione Questa piattaforma Con tutti i campioni Tutte le tonalità Tutti i generi musicali Praticamente c'è stata Una democratizzazione Del produttore Tutti possono fare Paradossalmente Il produttore Anche voi Perché ad orecchio Combinate Dei 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 sample E potete creare Nuova musica E quindi E quindi Cos'è? Eh beh Intanto volevo iniziare Ad entrare nel tuo lavoro Invece come artista Ok ok E Ho perso il filo Comunque era quello per dire Stavo dicendo Proprio esattamente Questa cosa Che ci sono stati Sulla ISA Invece una cosa Sulla piattaforma dei sample Eh esattamente questo È stato un precursore Di quello che farà Poi l'intelligenza artificiale Ovvio che poi La combinazione La fa La fa un altro processo Non la fai tu Personalmente Credo che non sostituirà mai Comunque come ti dicevo L'intelligenza emotiva Che è quella che poi È la regia No? Personale Nossa Che Che crea poi L'unicità E credo che anche Un certo tipo di studio Di formazione Debba fare la differenza Quindi il fatto che io Sia musicista Formato Spero faccia la differenza Rispetto a chi Non lo è Me lo auguro Voce Con la I Questa però La vecchia storia Cioè di sintetizzare La voce No? E si fa Si sta facendo E lì si entra In un altro Ambito Quello del diritto D'autore Perché se tu processi Un pezzo E metti la voce Di Drake Come è stato fatto E fai la featuring Tra Drake E The Weeknd E credo che Si vada sempre Mere Cioè si vada Ad ottimizzare il livello Si allontani sempre Di più dalla parodia E si possono creare Esperimenti credibili Questa cosa Va a intaccare L'unicità Dell'artista Quindi poi c'è Tutto il sistema Discografico Ed editoriale Che devono Ovviamente Creare Un corpo Legislativo Per difendere L'unicità Che credo sia fondamentale Perché così Poi vale tutto Devo dire Che uno degli aspetti Ma non potevamo Toccare Stiamo già toccando Parecchi Cioè uno degli aspetti Che abbiamo toccato Volutamente Lo lasciamo Ad altro È l'aspetto Dell'evoluzione Straordinaria Che c'è in questo momento Nel Nel legal Nel senso che I legali E gli avvocati In particolare Sono chiamati A fare Giurisprudenza A fare A fare Legislazione Perché Perché la tecnologia Sta correndo Troppo velocemente Questo è successo Per esempio Con gli NFT Da qualche anno E Gli NFT Si vendono Le cripto In qualche modo Si usano L'intelligenza artificiale Sta creando Immagini Ovviamente Già da tempo Che contengono Però Diciamo Copyright altrui E quindi In realtà In questo momento Una delle frontiere Più forti Che stiamo Verificando È proprio La frontiera Avvocati In trincea Perché poi Questo va fatto No? E ce ne sono alcuni Devo dire anche Italiani molto bravi A livello internazionale Senti ma Tu hai una carriera Separata Che forse È ancora più Rilevante No E altrettanto Spero lo sia Spero lo sarà Un artista Che chiami Dardas Estremamente noto E sei in qualche modo Un artista A un certo punto Parlavo di bipolarità Ma in termini positivi Sei in qualche modo Un artista Evidentemente Bipolare Nel senso Che hai una parte Che è una parte Diciamo Di Piano solo Che possiamo attribuire Ad un genere Chiamato Postclassica Esatto Che magari ci dici Quello che è Lo dico io E poi Un'altra Che è visibilmente Una parte ritmica Diciamo Di sapore digitale Che si avvicina molto Ad una forma Diciamo Di dance Robusta Sì Ci sono Ci dovrebbero essere I video Del live Di duality Ecco Questo è il primo atto Sì Praticamente Come ti dicevo Io non faccio Mali cose Non mi semplifico Mai La vita E quindi Io vengo Dal pianoforte classico E quindi Ho studiato Appunto Repertorio classico E vengo da lì Ma poi Mi sono appassionato Successivamente A tutto il mondo Elettronico A partire da Icraftwork Tutta la scena Rave Degli anni 90 E quindi Erano due opposti Veramente Agli opposti Veramente Estremi E quello che ho fatto io Con il mio percorso D'artista È portare Questi due estremi Nello stesso Nello stesso concetto Che è sia il disco Che il live Questo è il primo atto Ovviamente Questo rompendo Degli schemi E delle regole Ovviamente Perché negli auditorium Sia in Italia Che all'estero Ovviamente C'è il primo atto Dove il pubblico È seduto Ovviamente Andiamo oltre Il concetto Del piano solo Perché io vengo Anche dal teatro Quindi come Che senso E che ho fatto L'attore Anche a teatro E quindi vengo Molto dalla passione Della Dell'allestimento Della scenografia Del concetto scenografico E teatrale Delle cose Quindi Quello che il pubblico Viene a vedere È già una rivoluzione Sul lato Della performance Perché ripeto Non è un concerto Piano solo È un concerto Piano solo Con un concetto teatrale Con una storia Con un concetto dietro Che viene poi sviluppato Da altri creativi E poi c'è il secondo atto E quindi dicevo Negli auditorium È abbastanza canonico Perché il pubblico È seduto Poi c'è il secondo atto In cui si passa Nell'estremo opposto Diventa esattamente Un rave Diventa uno show Elettronico Dove I colori musicali Sono totalmente Differenti Dove c'è la cassa in quattro C'è tutto un lavoro Di sperimentazione Di studio del suono E quindi il pubblico Si trova totalmente Estraniato da questo Ma è la forza Vincente dello show E questo è uno show unico Perché non esiste Uno show Che abbia Questi due colori Così di contrasto Prima che la Stai iniziando A pensare Non hai detto Che cos'è la post classica La post classica È la nuova Si chiama neoclassica La nuova musica classica Che viene Dall'unione Fondamentalmente Di due concetti Uno è la musica ambient E Brianino È statuto Dei precursori E l'altra È una sorta È il minimalismo Che viene all'inizio Del novecento Una sorta di Semplificazione Chiamiamola così Ma è molto filosofica Che parte anche Da Austin Reich Quindi alcune cellule Melodiche Vengono ripetute È come se fosse Processato Da un computer Che però È una logica Che porta A una sorta Di minimalismo musicale Unisce il minimalismo Classico Lo metti In un'atmosfera Ambient Viene fuori Questa nuova scena Che è la La postclassica Neoclassica Mi stavi dicendo Che stavi provando Ad insertare Adesso A proposito Di cellule Dei campioni Dentro la postclassica Beh l'ultimo brano Che ho fatto a Sanremo È stato Cenere Di Lazza Che ha avuto Un esplodio incredibile È arrivato Seconda Grazie Inaspettatamente Perché era comunque Anche lì Un brano Nato Senza Pensare Beh Lazza era veramente Teso Per arrivare primo No Cremava come una foglia Per me è arrivato primo Per i numeri Che sta facendo Comunque Eh Beh E gli eri stato Un campione Chiaramente No Era un finto campione Perché quel campione L'ho creato da zero Con una cantante Però il game era Lui mi aveva portato In studio Un campione Un altro campione Di schoolboy Dove c'è questo Fraseggio di questa ragazza Che canta E io E lì c'erano 25 autori Quindi saremmo andati A Sanremo Con Cioè Amadeus avrebbe Passato 5 minuti A leggere 40 autori Ma poi Come concezione Ho detto Ma lo rifacciamo Il campione Ho chiamato Questa ragazza Che è Aria Delgado E abbiamo Ho scritto Una nuova melodia Poi ho trattato La sua voce Che sta all'inizio Del Pets E torna In ogni ritornello Come se fosse Un campione Preso dal passato E questa cosa Ha fatto anche La differenza Il fatto di avere Un campione Suonato In quel modo Sul palco di Sanremo Che venisse E il pezzo Un impianto Assolutamente Futuribile Per quello che riguarda La forma Canzone italiana Soprattutto su quel palco Il fatto che sia arrivato Secondo per me È come la vittoria Di Mahmood A Sanremo Ma ci sono tanti brani Che per me Hanno quel valore lì Andromeda Di Elodie Parlo del contesto Sanremo Perché poi Al di fuori Sono stati Anche esperimenti Più coraggiosi Perché Perché soldi Non è mai stata Fatta in arabo? Dovresti chiedere Ad Alessandro Cattiva idea È vero Ma c'è andata comunque È andato ovunque Quel pezzo Proprio perché Era in Italia L'hanno cantato Ovunque Quindi Stava tutto È stato un po' Il precursore Di quello che è successo Emaneskin A livello di esploi Internazionale Forse era ancora Un po' presto Per fare Il grande esploi Possiamo dire Che tu sei un ingegnere Genetico musicale Mi manca La parte emozionale C'è anche ragione E quella è fondamentale È veramente La cosa Che fa la differenza E non uscirà mai Dal mio studio Qualcosa che Non mi fa vibrare Delle corde Se fosse un lavoro Solo di ingegneria Non lo so Farebbe davvero Riduttivo E non porterebbe A nulla E quindi Quella bussola lì Ci deve essere Sempre E ci sarà sempre Credo per tutti gli artisti Che lavorano in un ambito Artistico Ma anche Credo anche in altri ambiti Perché no Senti grazie Grazie a voi Grazie Carlo Grazie 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 Grazie.